La storia che vi andremo a raccontare si svolge nella Prima Guerra Mondiale. Parla di tre soldati che vogliono dare un regalo a testa al loro generale. Vi presento quindi il milite gnoto, il generale, D'Annunzio e Ungaretti. Posso parlare, signor generale, c'è una cosa importante che le devo dire. In questa guerra che pare sia mondiale, in questi minuti prima di partire. Io, Beppe e un altro l'abbiamo cotando per il suo coraggio e i suoi valori. Lei sempre parla del Messico caldo, così come i magi le diamo trettoni. Questo scatti mio, spero che l'apprezzi, prima che una volta ci faccia tutti a pezzi. Grazie D'Annunzio per il buon cucio donato, ma non so cosa farne, è un po' inadeguato davvero. Grazie D'Annunzio per il buon cucio donato, ma non so cosa farne, è un po' inadeguato. Non so il tempo stringe, dobbiamo attaccare, ma ci tengo a chiarire il malinteso. Non c'è stato il tempo di rimediare alla somiglianza di ciò che abbiamo preso. A tutti è venuta la mia stessa idea, non c'è fantasia in questa trincea. Lui guarda il Messico ed il suo calore, il regalo è lo stesso, ma cambia il colore. Presto sugli scatti, spero che li apprezzi, prima che una bomba ci faccia tutti a pezzi. Grazie Ungaretti per il buon cucio donato, ma non so cosa farne, è un po' inadeguato. Grazie mille D'Annunzio per il buon cucio donato, ma non so cosa farne, è un po' inadeguato. Fermati, bilde, fermati, ignoto, abbassa la testa, a non aprire tu il fuoco. Caputo! Vedure in memoria del nostro caduto, rendiamo omaggio alle sue geste. Indossiamo quei buon cuci, senza altro indugio, partiamo l'attacco in alto la testa. Grazie soldati per i buon cuci donati, la cosa mi emoziona, il buon cucio mi dona. Grazie soldati per i buon cuci donati, la cosa mi emoziona, il buon cucio mi dona. Grazie mille ragazzi di appunto, questa è la scala Shepard, grazie.